ciao ragazzi io sono riccardo bentornati anche oggi nel mio canale youtube voglio parlarvi di un articolo diverso dal solito questo è un mini proiettore forse il proiettore più piccolo che esiste prodotto dalla eifmann il modello è m4 dlp proiettori me lo hanno mandato mi hanno proposto se io volevo fare la recensione di questo articolo e ho subito detto di sì perché da tempo che desiderava un proiettore e devo dire che mi ha sorpreso tantissimo perché è piccolo ma davvero molto molto potente capace di proiettare immagini a mio avviso davvero nitide consideriamo che io non sono un intenditore è il mio primo proiettore l'ho utilizzato alcuni giorni già lo possiedo da due settimane l'ho testato per bene devo dirvi che funziona davvero bene e forse è quello che mi serviva perché piccolo facile da riporre e ora vedrete veramente piccolissimo per le dimensioni che ha e perciò che l'ho utilizzato io scusate caduta l'illuminazione stavo dicendo si è dimostrato davvero molto efficiente adesso faremo un unboxing vi faccio vedere le impostazioni e vi faccio vedere pure ovviamente le riprese fatte durante un film dei trolls che ieri sera mia figlia ha voluto assolutamente vedere lo leggendolo su youtube vi lascerò ovviamente anche il link per poterlo acquistare se vi piace ma adesso vediamo subito cosa c'è all'interno della confezione e poi ovviamente come si utilizza dunque frotto arriva all'interno di questa scatola all'interno troviamo il proiettore ben protetto all'interno di questa bustina un piccolissimo treppiedi il manuale di istruzioni scritto anche in italiano molto comprensibile ad esempio leggiamo una parte di questo manuale il proiettore supporta la visualizzazione multischermo con molti dispositivi tra cui computer smartphone iphone che consente di godere appieno di videogiochi video e immagini con famiglia e amici quindi come vede è tradotto in modo davvero molto comprensibile anche se non è perfettamente in italiano sulla parte bassa troviamo altre due scatoline all'interno delle quali c'è il suo caricabatterie ed i cavi per connetterlo sia ai dispositivi che ovviamente per poterlo ricaricare quindi un cavo hdmi e poi un cavo micro usb per caricarlo vediamo quindi il proiettore da vicino come vedete è davvero molto piccolo dimensioni molto compatte sulla parte bassa all'alloggiamento per poterlo collegare a un treppiedi il passo è quello del cavalletti delle fotocamere infatti in dotazione viene dato questo cavalletto che però è leggermente diverso da quello che c'è illustrato nell'interzione di vendita ma svolge lo stesso funzionamento si avvita sulla parte bassa e poi si può ovviamente posizionare in base alle nostre esigenze e proiettare il video sul maxi schermo o su una parete come preferite voi passo ovviamente adattabile anche cavalletti più grandi quindi se ne avete a disposizione qualcuno di dimensioni più generose sicuramente verrà più agevole posizionarlo a una batteria integrata che si ricarica in un'ora e mezza due ore e mezza in base al livello di carica che ha ovviamente quando lo mettete sotto carica e garantisce fino a circa due ore di proiezione io l'ho utilizzato fino a un'ora e un quarto è andato benissimo con la sua batteria poi è finito il video e non ho potuto testare quanto dura fino a scaricarsi poi le altre volte l'ho utilizzato collegato ad un caricabatterie garantisce una proiezione ottimale da una distanza compresa fra 80 centimetri e 2 metri e 6 di distanza quindi proiettando un video delle dimensioni di circa 30 pollici fino ad una dimensione di circa 100 pollici ma l'ho testato pure in una parete molto grande era almeno sei metri e ovviamente il video perdeva leggermente qualità ma si vedeva benissimo quindi davvero soddisfacente nella parte posteriore abbiamo l'uscita per le cuffie comunque per collegarlo a delle casse esterne una presa usb permette di caricare anche i dispositivi perché funge pure da powerbank infatti ha una batteria integrata da 3.400 mili ampere quindi è possibile collegare per esempio il telefonino proiettare quello che ci interessa vedere e alimentare il telefonino con lo stesso proiettore oppure nel caso in cui si utilizzi per esempio un adattatore hdmi come quello che ho utilizzato io che va alimentato è possibile alimentarlo da questa presa e poi collegarlo al connettore hdmi per proiettare il video adesso vi farò vedere anche questo questo è il tastino per resettare il dispositivo e questo invece è l'ingresso per poter alimentare e caricare quindi il proiettore questo è il tasto di accensione la regolazione del volume più o meno queste sono le casse stereo una a destra ed una a sinistra che vi devo dire che funzionano davvero benissimo sulla parte sinistra abbiamo la regolazione della messa a fuoco quindi ruotando questa rotellina possiamo regolare la messa a fuoco dell'immagine proiettata sulla parte frontale abbiamo questa pressa d'aria all'interno c'è una ventola infatti posizionando la mano davanti si sente proprio il vento dell'aria che viene espulsa quindi il prodotto viene costantemente rinfrescato adesso voglio farvi vedere come proietta le immagini e lo testeremo su questa lavagnetta per capire il suo funzionamento testiamolo subito come power bank quindi spinotto collegato lo inserisco all'interno del proiettore e il telefonino va sotto carica come vedete si sta caricando tramite il proiettore in questo momento sto alimentando sia del connettore hdmi che il telefonino possibile ovviamente quindi utilizzare anche il caricabatterie in dotazione alimentare in questo modo sia il proiettore il connettore hdmi ed il telefonino tutto in contemporanea potendo usufruire quindi in modo illimitato del tempo necessario per vedere il nostro film adesso accendiamolo collego prima tre piedi in modo da avere stabilità perfetto come vedete riesce a proiettare perfettamente adesso io sblocco il mio telefonino adesso abbiamo sul proiettore l'immagine che io ho sul mio telefonino quello che io visualizzo sul telefonino sarà visualizzato ovviamente in contemporanea anche sul telo nel quale abbiamo deciso di proiettare le nostre immagini possiamo vedere a maxi schermo un po tutto quello che vogliamo riusciamo a proiettarlo sia da un computer da una console oppure dal dal telefonino e riusciamo a comandare dal nostro telefonino ovviamente tutto possiamo utilizzarlo anche per fare delle ricerche sul web quindi proiettare il nostro display per intero sul maxi schermo ad esempio da safari sono andato sul mio canale ora questo è il mio canale visto da safari oppure possiamo utilizzare direttamente l'applicazione e quando io avvio la riproduzione di un video l'immagine verrà proiettata in 16 noni sul proiettore questa per esempio sono le immagini di quando ho costruito il carrellino porta saldatrice e come vedete sul telefonino risulta connesso a dare il play e quindi riproduce il video sul maxi schermo adesso vi faccio vedere però che è possibile come adesso lo stiamo ascoltando tramite le casse integrate è possibile collegarlo anche ad un impianto comunque delle casse esterne quindi inserisco lo spinotto nella parte posteriore del dispositivo adesso sto utilizzando questa cassa esterna e riesco ad avere quindi un audio molto migliore proviamo a vedere come si comporta con un test hd sia per audio che per video a presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi, come abbiamo visto, riesce perfettamente a proiettare tutto sullo schermo che abbiamo di fronte. Ovviamente con le luci accese si riduce la qualità e la brillantezza dell'immagine, però riusciamo comunque a proiettarlo, perché nonostante la luminosità della stanza, riusciamo comunque a vedere il tutto. Ha dei led che ci indicano il livello di carica della batteria. Sono 4 led. In questo caso ne sono accesi 3, quindi è carico al 75%. Bene ragazzi, io quindi ho finito con la recensione di questo prodotto. Ringrazio Ape One per avermelo inviato. Ringrazio voi per aver visto il video fino in fondo. E che cosa dire? Abbiamo visto che funziona bene. Proietta delle immagini nitide. L'audio è di buona qualità stereo, sia con le casse integrate che con la cassa esterna. Possiamo controllarlo dal telefonino, possiamo controllarlo da console, computer e tutto ciò che vogliamo noi. E' usufruire quindi della possibilità di avere un proiettore con grandi prestazioni, ma piccole dimensioni, trasportabile facilmente, quindi utilizzabile per eventuali meeting. Insomma, diciamo che è veramente un prodotto valido. Detto questo, vi saluto e vedo appuntamento a tutti i miei prossimi video. Ma prima, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto, se lo avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e basta. Ciao di nuovo e a presto.